Signore e signori un attimo di attenzione vi presento la sorella gemella di Aurora Sardo la cantante Ciao buonasera buonasera TG5 buonasera allora ragazzi oggi canteremo una bella canzone Ma questi sono i vestiti di nonna Ma sono i vestiti di nonna questi Allora ragazzi oggi voleremo un reggaeton Oh baby oh yeah Oh my god Ok 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 wow Ok baby allora qui siamo pronti per il TG5 Allora ragazzi qui Oddio ma si è rotta la lente Oh c'è su benedizione Hai rotto gli occhiali a nonna Oh mamma mia Hai rotto gli occhiali di nonna brava complimenti Trovate subito la lente a terra Non mi hanno rotto gli occhiali Ludo ma è normale No è raffalenta Ma hai mangiato un gelato tu No è raffalenta Grazie a tutti.